Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Portiamoci subito sulla situazione tecnica dell'SP500. Ricordiamo innanzitutto che ieri i mercati americani e Wall Street è rimasta chiusa per la festività del Martin Luther King Day. Quindi ovviamente l'SP500 essendo un future in contrattazione continua ha continuato a scambiare durante tutta la seduta europea e poi anche successivamente durante la seduta asiatica. Come potete vedere l'intonazione del future rimane ancora una volta assolutamente positiva, importanti però da sottolineare i propri massimi che sono stati registrati durante la nottata europea. Li avevamo già evidenziati in precedenza, i livelli corrispondono ad area 1485 e 1486. Questi sono dei primi forti livelli di resistenza raggiunti dal future americano proprio qualche ora fa che hanno già iniziato a registrare una prima fase correttiva. Adesso attualmente l'SP500 si trova poco sotto area 1481 punti. Ecco, qualora questi livelli non dovessero essere superati ci attendiamo una fase di correzione sul future americano con obiettivi minimi da porre tra 1470,5 e 1467,3. Potete vedere come anche su questo time frame orario con la definizione di questi nuovi massimi l'RSI abbia disegnato una chiara divergenza negativa. Anche un segnale ribassista si è configurato proprio durante la nottata sull'oscillatore stocastico. Giornata sicuramente positiva per quanto riguarda i listini europei. Troviamo di fatti tutte le borse del vecchio continente con performance positivi durante appunto la prima seduta di questa nuova ottava. Iniziamo dal DAX di Francoforte che come potete vedere dopo il doppio test dei minimi registrato venerdì scorso in area 7705 punti ha definito questo movimento di rimbalzo che ha visto appunto un ritorno, un tentativo nella giornata di ieri di superare quella che avevamo evidenziato come resistenza passante a 7750 punti. Ecco c'è stato questo spike intraday che però è stato velocemente rispinto e attualmente ci troviamo ancora in prossimità di questi livelli 7747 proprio in quest'istante. Ecco ovviamente da monitorare ancora come livello di resistenza proprio i massimi di ieri in caso di breakout il future tedesco potrebbe appunto ritornare fino in area 7781-7783 che vi ricordo corrisponde a un fortissimo livello di resistenza da cui con ogni probabilità si definirebbe una fase di correzione. Se viceversa già da questi livelli nei prossimi minuti e nelle prossime ore dovessero iniziare le vendite un primo segnale chiaramente negativo in caso di cedimento di 7705 punti. Andiamo a vedere la tendenza di Piazza Fari, ieri abbiamo registrato una seduta sicuramente positiva con un rialzo dello 0,44%, un avvio di giornata in tonno negativo, abbiamo avuto un ritest proprio dei minimi di venerdì a cui sono seguiti nuovi acquisti durante la seconda parte di giornata. Chiusura appunto in positivo, vedete qualche istante fa il nostro future aperto praticamente sui medesimi livelli della giornata di ieri in area 17640 punti. Ecco, ci troviamo su dei livelli di resistenza molto importanti in quanto in prima battuta siamo davvero prossimi a 17700 punti livello fondamentale più volte definito anche nelle scorse giornate e poi 17648 punti corrisponde ad un livello di resistenza importante, vedete proprio al test in questi istanti dove si sta configurando e si è configurato un possibile partner armonico ribassista trattasi in questo caso di un bearish cartley proprio su livelli battuti attualmente dal mercato se questo livello di resistenza dovesse rispingere le quotazioni del nostro future si potrà definire e iniziare quella fase correttiva che ci attendiamo primo segnale di conferma sotto 17565 punti con obiettivi da porre a 17383, 17336 questi sono ovviamente obiettivi per il breve termine. Spostiamoci e andiamo a vedere anche la tendenza del mercato valutario ieri abbiamo registrato una seduta davvero poco volatile e direzionale su tutti i cross per quanto riguarda l'euro dollaro praticamente tutta la seduta ha visto stazionare la moneta unica in prossimità poco sopra area 1,33 l'euro ha ritrovato poi una brillantezza un tentativo appunto di uptrend ancora attualmente in corso che ha generato questi massimi a 1,33 e 60, 1,33 e 70 livelli attualmente battuti dal mercato. Ecco per quanto riguarda anche le prossime ore un segnale positivo si avrebbe solamente in caso di superamento di 1,33 e 90 con relative conferme questo genererebbe un nuovo segnale rialzista con possibilità di definire appunto nuovi massimi di periodo con target che poniamo a 1,34 e 85 se viceversa questo segnale non dovesse andare a configurarsi possiamo vedere come su time frame orario il cross valutario si sia portato in area di ipercomprato ecco potranno ritornare le vendite con i relativi ritest dei minimi precedenti ed eventualmente anche un approdo fino ad aria 1,32. Leggermente più volatile è stato ieri il cable che ha proseguito nella sua tendenza riva assista molto molto chiara ormai da qualche seduta abbiamo avuto la definizione di nuovi minimi di periodo livelli che non si registravano dallo scorso agosto con vedete i minimi registrati a 1,58 e 0,4 successivamente nelle ultime ore di contrattazione della seduta di ieri quindi un piccolo tentativo di rimbalzo tecnico che ha portato a definire su questo time frame giornaliero uno spinning top quindi un partner candlestick di indecisione proprio su questi minimi ecco attenzione perché non è da escludere che si possa configurare una fase di accumulazione nelle prossime giornate con un possibile ritorno quanto meno fino in area 1,59 e 0,86 view confermata per quanto riguarda dollaro americano contro franco svizzero a seguito del doppio test della area di resistenza posta tra 0,9375 e 0,9390 è iniziata questa fase correttiva ancora attualmente in corso 0,9312 in questo istante ci attendiamo una discesa fino a 0,9262 e successivamente fino a 0,9198 target finale del movimento ribassista segnale che verrebbe negato ovviamente solo in caso di superamento dei recenti massimi di periodo andiamo a vedere anche i dati macroeconomici più importanti per la giornata odierna sul fronte europeo sicuramente da seguire con massima attenzione è stamattina alle ore 11 lo ZEV tedesco dati rivisti in salita 12,2 punti da segnalare inoltre anche proprio qualche istante fa in questi minuti inizieranno i lavori dell'Ecofin da seguire poi anche in serata alle ore 19 un intervento da parte del presidente della BCE Mario Draghi per quanto riguarda Wall Street il dato più importante della giornata odierna verrà pubblicato alle ore 16 relativamente alle vendite di case esistenti con previsione che stimano un'ulteriore crescita rispetto all'ultima rilevazione giornata inoltre molto molto importante anche sul fronte societario a Wall Street in quanto saranno molte le società appunto a pubblicare i dati trimestrali tra tutte Google e IBM dopo la chiusura dei listini americani bene per oggi è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti